Ciao, sono Alfonso, lo zio di Greta Santi, che canterà Sola di Nina Zilli. Come mai fare tutta questa strada per venire a cantare proprio per il nostro canale? Perché ci tengo molto e sono molto contenta e molto emozionata di essere qui. Da grande io vorrei diventare cuoca, però per passione vorrei diventare cantante. Cosa ti ha insegnato Ariane? Ieri mi ha stimolato il dovere di provare a muovermi e ci sono riuscita. Allora adesso facciamo un gioco in cui tu sei Ariane e tuo zio è il cantante. Cosa gli facciamo cantare? Sono non sono capitano uncino, quando mi chiamo dovete, lasciate tutto e correte. Hashtag quando siete sul palco vivete liberi. Hashtag in musica vita.